pomodoro verde su twitter mi ha fatto questa domanda boeri vuole abbassare l'età per la pensione renzi no tu cosa ne pensi dunque cosa ne penso io la questione del lavoro è risolvibile se si vuole immediatamente partendo dal lavoro che c'è senza attendersi incrementi di lavoro o cose di questo tipo qui che in un certo senso lasciano il tempo che trovano se si vuole davvero ripartire il lavoro in un modo intelligente e ve ne parlo per esperienza perché la mia vita è stata costretta a occuparsi di lavoro fino a 50 anni poi da 50 anni in poi per ragioni personali io non ho più potuto essere impegnato nel lavoro non è che mi sono messo da parte finalmente ho cominciato a fare il lavoro che piaceva a me quello possibile che non ti dà reddito economico ma ti da reddito umano ti consente di occuparti dei tuoi interessi dei tuoi hobby e cose di questo tipo la nostra giornata è a disposizione di tutti nello stesso modo può essere occupata nelle parti più importanti della giornata solo per un lavoro che ti impegna in modo così pieno e ti lascia solo le ore serali poi a parte il sabato la domenica giorni che puoi dedicare a te stesso le due leve per risolvere immediatamente alla situazione passano attraverso un massimo di sei ore al giorno da imporre per tutti stante le cose come sono ora ossia con un pensionamento che arriva all'età in cui arriva ora oppure una sorta di rottamazione sotto il profilo del lavoro di tutti gli anziani ecco questi hanno fatto abbastanza per diciamo così tirare la carretta diamogli modo ora di tirare la carretta pro domo sua ossia proprio in relazione ai loro interessi e facciano quello che vogliono naturalmente tutto questo deve essere studiato e regolato in modo che la cosa economicamente stia in piedi ma che la cosa economicamente stia in piedi secondo me deve esistere ma deve essere condizionata a un diritto sacrosanto proprio posto come costituzionale di un'italia che è fondata sul lavoro fino a quando il lavoro non è assicurato a tutti ecco manca uno dei presupposti costituzionali che l'italia sia costituita sul lavoro perché si lascia il lavoro così a disposizione libera delle persone e invece uno stato sapiente dovrebbe mettere le cose in un modo tale che possano avere lavoro tutti allora come si fa se c'è bisogno a livello nazionale per esempio di un certo numero di ore di lavoro ecco si studi come ripartirle in modo tale che tutti lavorano verrà una riduzione del lavoro attuale perché se oggi bastano otto ore per risolvere tutto il lavoro che c'è e forse ne basterebbero meno ecco togliamo di mezzo tutti coloro che non è che se non lavorano non mangiano mangiano si vestono devono essere mantenuti da chi dai loro familiari che lavorano e li mantengono allora per quale motivo avere un padre che lavora 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 per mantenere un figlio che non lavora anziché dare più spazio al padre e fare lavorare il figlio in modo che tra padre e figlio assicurino lo stesso tempo di lavoro ma il lavoro sia ripartito tra l'uno e l'altro in un modo più sapiente ecco se le cose partissero proprio con questo presupposto noi potremmo avere i due modi per regolare che tutti lavorano se mandiamo in pensione prima una grande quantità di persone ecco che quelle ore di lavoro che devono essere fatte si sposteranno e saranno fatte dai più giovani che possono anche essere impiegati in attività così che in un certo senso sono obbligate nel lavoro uno lo fa ed è interessante se è fortunato altrimenti ci sono tanti lavori che sono fatti così perché devono procurare il reddito alla famiglia e non sono proprio l'ideale della vita il lavoro così per conto terzi diverso è il lavoro se uno è titolare di azienda allora sta svolgendo la sua iniziativa per un imprenditore diverso ma per uno che va a lavorare se è fortunato fa un lavoro che gli piace e che in un certo senso possa dire non ho buttato via la vita lavorando perché ho fatto cose piacevoli ma come stanno ora le cose il lavoro di questo tipo che è salutare perché impegna è fatto in attività che non sono quelle ideali che ciascuno farebbe allora se è possibile sistemare le cose in modo che mediamente si riduca l'orario di lavoro a un massimo di sei ore al giorno un part time ecco che ognuno ha un grande tempo libero durante la giornata per pensare alle cose che lo interessano personalmente nel lavoro nell'occupazione personale e tutti lavorano nello stesso tempo lavorando sui due termini della questione la pensione prima e il lavoro ridotto è possibile regolare poi dopo la questione economica perché è evidente un lavoro si sorregge sul fatto che sia economicamente sostenibile un imprenditore deve produrre a prezzi che sono concorrenziali non può pagare oltre quanto serve per vendere un bene perché altrimenti quel bene non lo vende più quindi è interesse di tutti che si studino le cose in un modo che sia oculato ma in sostanza bisogna pensare alla sostanza del problema chi non lavora è mantenuto da chi lavora sulle spalle di chi non è giusto nemmeno questo che uno debba impegnare tutta la sua vita in un modo che spesso magari non è nemmeno interessante e non avere altro tempo libero per sé che la sera quando potrebbe essere un intero pomeriggio una mattina libero a disposizione di ciascuno le cose di questo tipo alleggerirebbero per lo stato tante cose tanti costi perché quando tutti lavorano c'è meno disperati in giro che rubano meno che hanno bisogno di essere seguiti meno che fanno lavorare meno tutti i giudici tutti tutti i poliziotti tutti coloro che devono sorvegliare non si spendono tanti quattrini per mantenere in vita tutto l'ente di controllo ecco si risparmiano tanti di quei danari in modo diretto e indiretto che quando tutti lavorassero in questo modo qui lo stato si potrebbe secondo me permettere di aiutare questo sistema e in che modo alleggerendo la quota che prende attualmente come tasse sul lavoro dai dagli imprenditori e dandone una maggiore parte a chi lavora meno in modo tale che quelle sei ore invece di otto non vedano il corrispettivo di due ore in meno come stipendio guadagnato ma più o meno che si tenda a conservare lo stesso stipendio di ora attraverso proprio il fatto che i contributi in meno dati allo stato in virtù del fatto che quando tutti lavorano si va meglio tutti per cui di fronte a questa situazione la domanda che mi hai fatto tu amico mio e ti ringrazio che me l'hai fatta è strano che Renzi che è intervenuto in relazione alla politica con l'idea basilare di rottamare messo di fronte a questa possibilità di diciamo così rottamare sotto il profilo del lavoro schiavo tutti gli schiavi che sono addetti attualmente al lavoro e renderli pensionati certo mi rendo conto che andare prima in pensione poi occorre avere più quattrini per mantenerli ma il tutto sia un po' bilanciato sia studiato perché è possibile sempre trovare una situazione che risolva in modo equilibrato queste questioni l'importante nella vita è di non andare in pensione quando si è vecchi decrepiti e trarre profitto di tutta l'esperienza di lavoro obbligato per poter finalmente contribuire in modo libero e diciamo così disinteressato perché poi tutti gli anziani che vanno presto in pensione e che percepiscono per la pensione non è detto che non possono essere usati dall'amministrazione pubblica per risolvere questioni di volontariato che tolgano di mezzo per lo Stato tutta una quantità di spese che siano date attraverso proprio l'opera di buona volontà di chi avendo ancora voglia di contribuire con la propria attività al bene pubblico avendo la pensione che gli dà la sua sicurezza di vita lo metta in condizione di fare tutta una serie di attività per lo Stato a titolo gratuito proprio fatto per passione per amore per il contributo che ciascuno libero può dare alla propria patria io lo uso questo termine perché bisogna proprio attaccarsi nuovamente ai valori che sono quelli della famiglia, della città, del quartiere, della gente che abbiamo intorno affinché questa nostra terra cessi di essere il luogo dell'egoismo e diventi un luogo in cui veramente sia di nuovo bello, santo e salutare, vivere